ecco a voi la vita in diretta andremo a curiosare a casa permesso? è la vita in diretta salve mamidi cosa bolle in pentola oggi? abbiamo arcatroie ecco abbiamo dei bei bucatini che solo a casa truang li facciamo con si gira la pasta con le bacchette ma si mi dica lei la fetta alle patate eeeh sa parrite le basta noi abbiamo il sugo oggi abbiamo fatto i soldi sugo di pesce mmm ma ci dica ci dica come va questa famiglia? come va questa famiglia? il frigo abbiamo di tutto e di più che cazzo eh bello vuoto eh abbiamo niente babbo ci lasci una intervista? ci lasci una intervista? parlaci di qualcosa buo 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 buono raccontaci raccontaci siamo venuti fritti 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 buongiorno io ho cambiato lingua ahahah per noi udenti al pagina 77 del televideo ahahahahah babbo fammi i soldi questo video a 53 ahahah 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 ora la numero cosa facciamo? sei con ahahah 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 avete visto ehm si ehm per la traduzione al 777 del televideo sempre ritorniamo alla cottura perché è quasi che pronto faremo qualche piccolo scatto per fare il reportage linea allo studio smorcia smorcia